E ora tocca alla best girl di Neon Genesis Evangelion, Asuka Soryu Langley. Ora, lasciamo da parte il fatto che io sia un fan devastante di Evangelion e che sia molto deluso da voi perché non lo conoscete. O almeno molti, molti di voi non lo conoscono. Ma se siete degli otaku, o almeno pensate di essere degli otaku, questo personaggio dovreste averlo visto almeno una volta nella vita. Asuka è il perfetto esempio di Zundere ed è anche uno dei personaggi che ha contribuito a coniare questo termine. Pilota dell'Eva02, l'ho disegnata prendendo spunto da un'illustrazione di Yoshiyuki Sadamoto. So bene che mi sentite più coinvolto del solito, ma Evangelion è Evangelion e tutto il resto per me non si paragona. Mi piace così tanto parlarne che non vi ho neanche detto nulla sul disegno, che boh, spero vi piaccia. E niente ragazzi, se c'è qualche fan di Eva tra di voi, fatevi vivi, ditevelo, urlatemelo perché ho troppo bisogno di voi.